Assessore, inizia oggi la raccolta firme per questi referendum, quale le sta più a cuore? Beh, diciamo che sicuramente sono tutti e cinque importantissimi, tutti e cinque importantissimi e anche legati tra di loro da un filo sottile legato anche alla mia delega che è la delega della sicurezza. Sicuramente c'è un referendum molto importante, quello legato alla prostituzione, alla legalizzazione della prostituzione che porterebbe a varie situazioni che agevolerebbero ciò che invece oggi abbiamo. Prima di tutto vengono svuotate finalmente le nostre città dalla prostituzione che spesso vediamo e che sicuramente crea molti problemi, soprattutto problemi di ordine pubblico. Sarebbe un introito importante per le casse dello Stato perché è un'attività, tra l'altro, molto diffusa come quella della prostituzione, verrebbe tassata come vengono tassate tutte le attività e tutti i cittadini che oggi lavorano e soprattutto un controllo, anche un controllo importante sanitario sia per chi lavora in questo ambito ma anche per i clienti. Ma sicuramente con la legalizzazione della prostituzione e quindi con un controllo diretto della prostituzione viene a mancare quello che oggi è anche una grande fonte di reddito per la criminalità organizzata e che è una fonte di reddito importante da un lato ma dall'altro comporta un problema gravissimo che è quello dello sfruttamento.